Cari amici, è con piacere che vi invito quest'anno a Istanbul dall'11 al 14 settembre al Congresso Mondiale della Società di Medicina per il Natale. È un programma scientifico estremamente interessante, grandi relatori e c'è ancora la possibilità di portare il proprio contributo scientifico in quanto la sessione degli abstract è ancora aperta e chiuderà il 25 di giugno. Quindi un'occasione unica per avere un confronto ad altissimo livello con tutti gli esperti mondiali di medicina per il Natale. Ci vediamo tutti a Istanbul. A presto!